ciao a tutti amici del prenesse studios e ben ritrovati qui in questo episodio di cinemaniaci allora come potete vedere parliamo di un grandissimo film ragazzi che straconsiglio a tutti quanti voi ovviamente mi raccomando ricordatevi di andarci solo voi e non portate magari i bambini perché ci sono delle scene un po' cruente diciamo così in questo film ma ne parliamo dopo di quale film stiamo parlando di renfield un film veramente interessante che narra diciamo per l'ennesima volta ma in un modo tutto suo le vicende del conte dracula e del suo fedele servo fedele insomma per modo di dire questa è una una versione di questo film di questa storia basata su un'opera fumettistica di robert kirkman ed è praticamente una nuova versione diciamo così della storia del conte dracula in questo film troviamo secondo me uno degli attori che si sta riprendendo molto diciamo diciamo così nella sua carriera ha avuto tantissimi alti e bassi però in questo film si sta riprendendo veramente c'è da conferma che si sta riprendendo e parliamo di nicolas cage nicolas cage è il protagonista diciamo così più importante che si può trovare in questo l'attore meglio più importante che si trova in questo film più conosciuto al grande pubblico anche se il vero protagonista che è nicolas halt che è praticamente un altro attore comunque ha fatto molti film forse il ruolo che ricordate tutti con più attenzione è il ruolo di bestia nel film x-men l'inizio la versione giovane dei supereroi marvel e anche quello film molto molto bello e in questo film devo dire che c'è una regia molto anni 80 molto anni 90 pure diciamo così è una regia frenetica ma allo stesso tempo coinvolgente tante bellissime immagini ma soprattutto tanti tributi al fantastico dracula interpretato da bella lugosi che poi tra l'altro ha dato anche moltissima ispirazione ai nostri amici bonelliani per creare il famoso barone racosi nella serie di zagor infatti anche un po no come possiamo dire il discorso cacofonico no lea lugosi barone racosi cioè praticamente molto similare anche nella pronuncia oltre che nell'aspetto qui bisogna dire che nicolas cage specialmente nell'inizio del film per cui un leggerissimo spoiler però ecco si vede anche nel trailer per cui non è che poi così tanto uno spoiler e nicolas cage veramente in alcuni momenti all'inizio del film e rinterpreta proprio delle scene che fanno parte del trailer del film di bella lugosi quindi è molto carina questa idea di cominciare il film con immagini o comunque dei montaggi dei tagli del film vecchio reinterpretato dagli attori di questo film ed è molto carino che spiegano ovviamente la classica storia del conte dragone del suo servo renfield però con i personaggi ovviamente di questo film che rifanno le scene del film originale poi il film comincia e prende tutta una sua piega questa piega ricorda tantissimo i film di tarantino bisogna dire la verità perché è molto splatter e allo stesso tempo molto molto divertente quindi mi ha ricordato un po quell'ironia che si possono trovare nei film di tarantino ovviamente non ci aspettiamo una interpretazione megagalattica degli attori di contorno che però comunque contengono il film e danno un senso compiuto alla storia credo che soprattutto l'attore protagonista quindi nicola salt nel ruolo di renfield penso che sia perfetto ricordi moltissimo l'attore precedente che purtroppo non mi sobbiene il nome del film originale di Dracula ed è veramente proprio molto bravo molto intenso e si è calato proprio tantissimo nel personaggio e non mi aspettavo un film così dove c'è molta serietà in certi momenti nella come possiamo dire nell'interpretazione dei personaggi si passa da momenti ironici a momenti comunque di grande riflessione veramente di grandissima riflessione poi ovviamente è un film che non consiglio a tutti perché è un film che ha una tipologia di scrittura una tipologia di arrivo mentale se uno vuole andare a vedere un film solo perché c'è nicolas cage che fa dracula uno pensa che sia magari un film da ridere ecco non è proprio totalmente da ridere diciamo che ci sono anche delle scene dei momenti abbastanza cruenti come dicevo alla tarantino quindi ci sono delle scene insomma molto splatter c'è tanto sangue in questo film ovviamente come dovrebbe essere infatti viene classificato come un horror però ecco non è un vero e proprio horror perché c'è molta ironia diciamo così ok è più un film splatter per alcuni tratti ricordava come posso dire una sorta di regia anni 80 90 per alcuni momenti ricordava un po la serie della casa per capirsi no con martin campbell è un c'è una sorta di come possiamo dire ritorno un po al passato sotto determinate cose ma credo che sia stata veramente un film molto interessante perché ha dato comunque diverse sfaccettature a alla serie insomma ecco diciamo così di di dracula nuove ok quindi è stato presente un secondo me un bel colpo anche questo tra l'altro poi il film è ben curato a livello sonoro e poi concludo con gli attori perché abbiamo marco beltrami ok il famoso per aver fatto tantissime colonne sonore mi viene da pensare ad alcuni della serie di scream se non ricordo male il 2 e il 3 aveva fatto poi ha rifatto la la musica per underworld evolution la bellissima serie dedicata al personaggio di selena interpretato dalla bellissima kate beckinsel poi ha fatto anche un altro film molto bello che è il remake di quel treno per yuma con con christian bale e russell crow altro film bellissimo poi comunque ce ne stanno tante altre anche quella di segnali dal futuro io robot cioè insomma mi viene da pensare tutto questo e in più ha curato la colonna sonora di questo film e devo dire che insomma è una cosa molto interessante questa perché anche la musica come sapete benissimo per i miei pensieri fa molto all'interno di un film e secondo me è perfetta è un bel mixer è mixata bene anche i suoni sono sono molto efficaci e allo stesso momento anche la scelta poi dei brani che vanno a completare comunque un lavoro secondo me molto egregio adesso andiamo al discorso un po' finale che è quello che riguarda gli attori allora partiamo dal protagonista come detto un ottimo renfield devo dire la verità nicolas sant ha fatto ha fatto veramente un buon lavoro e come detto mi ricordava moltissimo anche per aspetto e caratteristiche attoriali l'attore che ha interpretato prima ovviamente nel 1931 nel film originale di dracula con bella lucosi che ha interpretato renfield purtroppo non mi ricordo il nome di quell'attore mi sovviene però è stato veramente molto bravo molto intenso mi sono anche a un certo punto immedesimato in questo questo personaggio che tenta comunque di cambiare il suo pensiero che per tanti anni magari è stato uno e uno solo poi alla fine comunque cambia un pochino cerca sempre di trovare il buono nelle cose buone ma allo stesso momento trova il buono neanche nelle cose cattive insomma un bel contrasto e poi qui arriviamo comunque alla controparte ovvero nicolas cage allora nicolas cage è un attore che comunque ha avuto sempre una carriera molto interessante purtroppo con molti alti e bassi devo dire la verità e questa serie di alti e bassi l'hanno un po rilegato in un personaggio un attore di serie b secondo me non è giusto perché lo trovo comunque un attore che alla fine ha delle ottime doti purtroppo è stato sfortunato a livello finanziario e quindi essendo quasi arrivato la banca rotta ha dovuto accettare qualsiasi cosa per poter lavorare per poter rientrare diciamo così insomma un po a paro col fisco statunitense che praticamente insomma se non se non paghi te gonfia come l'uva cioè te pista come l'uva come si dice a Roma o al massimo te pista come cioè come ho detto no come cioè come posso dire no ma neanche forse anche di più forse anche di più basta chiedere a Wesley Snipes quanti anni di galera si è fatto per avere per avere vaso il fisco qui da noi attori o cantanti o gente comunque che c'ha parecchi soldi e vade milioni e milioni d'euro non gli fanno niente anzi gli fanno sinceramente una come posso dire una penalizzazione al massimo e dicono no guarda senti quanto c'è di da 40 milioni d'accene due e stai a posto cioè capito e poi gli fanno una penalizzazione magari per dieci anni che non possono far più presti solide cose all'italiana ma non è questo quello che conviene nel nostro discorso e per il resto mi hai detto Nicolas Cage quando deve interpretare questi personaggi un po' narcisisti un po' come possiamo dire ecocentristi che praticamente ecco sono anche un po' schizzati diciamo così interpreta sempre magicamente questi personaggi e mi viene da pensare a due su tutti il protagonista l'antagonista scusatemi del film il bacio della morte con Nicolas Cage Derek Caruso e Samuel L. Jackson un bellissimo poliziesco americano made in anni 90 insomma dove c'è un Nick Cage pompatissimo film molto bello che è andato un po' diciamo nel dimenticatoio anche perché in quegli anni uscirono altri film con Nicolas Cage molto importanti come The Rock e Coneire quindi fu un po' rilegato nel B-movie però potete recuperarlo perché è veramente molto molto bello poi un altro film che mi fece poi innamorare di questo attore è stato quando ha interpretato Castle Troy in Face Off con John Travolta quindi ecco anche questo è un film che mi ha ricordato un pochino quei fasti lì diciamo del Cage attore proprio hollywoodiano per eccellenza e in Renfield vedo un po' la fusione di questi due personaggi diciamo ecco l'ecocentrismo del personaggio principale dell'antagonista come dicevo prima del bacio della morte e poi la follia e ovviamente insomma la schizofrenia di Gastor Troy insieme è uscito fuori una bellissima interpretazione e devo dire che se andrete a vedere questo film ricordatevi sempre magari ecco i più piccoli eviterei di portarli consiglio personale però ecco se andate a vedere questo film fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti e secondo me può essere molto valutato questo film nonostante abbia tantissima concorrenza adesso che sicuramente ovviamente influirà sul successo al botteghino fatemi sapere che cosa ne pensate al prossimo episodio ciao